E la Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino, l'unica di quell'epoca rimasta integra in Europa, è il gioiello del Museo del Risorgimento Italiano di Torino, il più antico e il più noto fra i musei di storia patria e il solo ad essere nazionale. Riapre Palazzo Carignano dopo cinque anni di lavori per il più completo e scenografico dei suoi riallestimenti. Nato nel 1878, come ricordo di Vittorio Emanuele II, era destinato alla Mola Antonelliana, la prima sede dopo alcune mostre temporanee per mettere insieme il simbolo della città con quello del processo di unificazione. Dal 1938 è al Piano Nobile di Palazzo Carignano. La nuova veste è stata curata dal punto di vista scientifico dallo storico e presidente del Museo Umberto Levra per la messa in scena dall'architetto Richard Peduzzi. Propone, nelle 30 sale colorate, veri codici cromatici che richiamano i temi trattati quasi 2600 pezzi, scelti fra gli oltre 53.000 posseduti la maggior parte mai mostrata prima. Il periodo risorgimentale viene narrato non solo in chiave italiana, piemontese, ma anche europea, percorrendo le tappe che hanno portato all'unità nazionale anche negli altri paesi, che sempre nell'Ottocento hanno combattuto per la propria libertà e indipendenza. Un racconto per immagini, con riproduzioni di quadri, litografie e fotografie e con filmati su grandi schermi e tavoli interattivi. Tre i percorsi di visita da 45, 90 e 120 minuti per diversi livelli di approfondimento. A fare da guida in ogni spazio un oggetto simbolo. A completare il museo, una sala cinema, una biblioteca e un'emeroteca. Grande attenzione è stata riservata ai percorsi per le persone diversamente abili. Fino al 31 marzo, ingresso gratuito per scoprire storie e tesori del Museo del Risorgimento. Già esaurite fino a giugno le prenotazioni, in 53.000 da tutta Italia hanno riservato la visita, che termina nella grandiosa aula destinata alla Camera del Parlamento del Regno d'Italia, con le volte affrescate da Gonin. Fu costruita fra il 1864 e il 1871, ma una volta finita Torino non era più la capitale. G Tur somethin La Prima La Prima Grazie.